Musica Dal Kennedy, seconda giornata, Ladies Cup, quinta edizione, ASD, quarto rosa contro le Antares, abitra Giuliano, ecco le due squadre si apprestano ad arrivare al centrocampo per il saluto iniziale alla nostra destra in casacca rangiù nelle Antares vittorose nella prima giornata e invece sconfitte nella prima giornata le quattro rosa, eccole qui in maglia celeste il saluto delle squadre poi ci sarà il tocco dei due capitani il saluto del palco il saluto del canale non c'è più non, è siccome sia la mamma in cambio non c'è più si può fare ma una poi andiamo? ok, buca l'upper è spazia in calare Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.